Il Trentino Alto Adige, da sempre laboratorio di alleanze a cui la politica nazionale guarda attenta, ha sparigliato i giochi mandando all'aria l'alleanza di centro-sinistra che guidava la provincia di Trento e facendo tremare anche la corrazzatissima Suttiroler for Spartai, che nel rinnovo del Consiglio della provincia di Bolzano perde due seggi e quasi quattro punti percentuali, soprattutto in centro-città, ma si mantiene sopra la soglia psicologica del 40%, 41,9% il finale. Con il governatore Arno Compass. Molto bene il team Kellensperger, lista costituita tre mesi fa da Paul Kellensperger dopo essere uscito dal Movimento 5 Stelle per l'eccessiva intransigenza del Movimento e vola al 15,2%. La vittoria va però alla Lega di Matteo Salvini, che fa il pieno di consensi in entrambe le province, salendo all'11,1% a Bolzano e a Trento conquistando anche la presidenza con Maurizio Fugatti di Avio, oggi sottosegretario alla Salute. Salvini esulta anche in rete e si dice pronto alla conquista anche della Toscana, chiaro riferimento al dato in fortissimo calo delle liste del PD. A Bolzano, infatti, il PD va malissimo, il 3,8% e l'effetto Boschi si è trasformato in un tremendo boomerang per il partito. Anche il Movimento 5 Stelle si ferma al 2,4%. Ora, il tema sul piatto sono le alleanze, la più probabile a Bolzano è un accordo tra la Fospartei e la Lega, con un sostegno dei Verdi. Ma con l'Europea alle porte, questa scelta potrebbe costare cara a SVP, che infatti prende tempo. È presto per parlare di possibili alleanze, frena il segretario politico, Filippo Hacamer. Ora parleremo con tutti i partiti. A fine giornata, anche in Trentino, la rivoluzione si è completata con Maurizio Fugatti, che conquista il 46,74%, e l'uscente Giorgio Tonini, con l'alleanza di centrosinistra, che si ferma al 25,40%, dopo la rottura con il PAT di Ugo Angelo Rossi, che ottiene il 12,42%. Filippo De Gasperi, del Movimento 5 Stelle, si ferma al 7,1%. Ma sono proprio i voti di lista a fare la differenza. La Lega supera il 27%, il PD va sotto il 14%, mentre Forza Italia è quasi annientata con il 2,82%. Insomma, questo voto in Trentino Alto Adige potrebbe essere un antipasto delle prossime e ormai eminenti elezioni europee, dolce o amaro, a seconda dei punti di vista.